Ora so il giochino Bob Sei una killer Sei un'assassina Hai distrutto questa propria roconia Ma ti do il trucco nei tuoi giochini Dora Dora Eh Uhhh 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 Ma io ma io ma io ma io ma io Buonanotte di più i miei cagnonini preferiti Adesso un posturo di dischi mio cagnonino preferito Uhhh 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 Allora ragazzi tra poco lasceremo questa casa Vedete già si sta praticamente svuotando Tra poco intendo due mesi Vedete tutti gli oggetti abbiamo fatto la maggior parte degli oggetti L'asta Vedete Sono scomparsi tutti i mobili I mobili nero Sto finendo di fare i cartoni Per Perché ce ne andiamo da qui Questi qua andranno a Duville Le lampade della specchiera A Duville andranno anche queste Le due lampade che sto facendo Oh Lascia stare figlio Che fai male Volevo solo farvi vedere Che chi viene Questa settimana Praticamente a A Parigi Tiene proprio un mazzo scassato Un mazzo scassato perché Proprio oggi fa 21 gradi Oggi è sabato 21 gradi Domani sarà la stessa cosa Infatti domani andiamo in campagna Con questi quattro piccoli Che ho creato Guardate la fila che è Per prendersi un gelato Non solo là Però guardate là Troppo Troppo è una zona che dobbiamo lasciare Una cosa che mi dispiace tanto E poi sul bricolace della vita Verrà caricato il motivo Di perché lasceremo questa casa E quello che si deve fare Quando si lascia una casa del genere Poi faremo logicamente il video Ehhh Assassina Assassina Mmmmm Allora Ciao ciao a tutti Volevo dire solo che è una bellissima giornata Ciao Ciao Ciao